Sì In onda si dice quando sei live, quando sei in diretta In realtà siamo indifferita, stiamo registrando, no? Mhm Salve Buonanotte Allora, buonanotte, buon pomeriggio, buongiorno e buonanotte Sì, cosa manca? Buonasera, manca anche la buonasera Vabbè, questo per dire che potrebbero guardare questo video in qualsiasi ora del giorno e della notte Non lo possiamo mai sapere, eh? Noi da persone educate le diciamo tutte Per noi ora è mattina Sì, la verità è che adesso è mattina per noi, si vede anche dal sole, guarda quanta luce che c'è Ogni volta che guardo questo mini, c'è questo Questa topolina che scorge lo sguardo È il segnalino di Daniela Eh sì, eh sì Che a volte uso anche io E una volta le persone guardavano la tv col telecomando E l'unica possibilità che avevano di interagire era cambiare canale Adesso tu che sei nato Io non vorrei vivere In quell'epoca In quell'epoca Perché io non riuscirei a vivere senza telefono È roba antica Invece oggi tu che sei dei 2000, dei 2010, anni 2010 Io sono nata 14 Il 14 novembre Bene, bene Ti faranno gli auguri tra un po' Il 14 novembre Tra un po' è il tuo compleanno Sì, e faccio 6 anni Infatti ora sono il primo elementare Benissimo Stavo dicendo che Prima potevi solo cambiare canale Rai 1, rai 2, rai 3, rai 4, rai 5 Adesso hai col telefonino un mondo davanti Puoi vedere tutti i video che vuoi Puoi navigare dove vuoi Ma il Poi il telefono serve anche per cose utili Eh certo Col telefono c'è tutto Puoi fare tutto Video Eh no Il telefono è anche utile per il navigatore Per chiamare qualcuno Sì Oramai il telefono si usa per tutto L'unica cosa per cui non si usa oramai è parlare Oramai quasi non capita più di tenerlo così all'orecchio, vero? Esatto Si tiene sempre in mano Anche quando si deve comunicare si fanno i messaggi vocali col Whatsapp Hai mai visto? Fra poco saprò leggere Saprai leggere e quindi potrai anche scrivere oltre a fare i vocali Siamo nella piazza di Pompei Guarda quanta gente che c'è Eh vediamola un attimo, guarda Sì sì Eh sì Hai ragione Hai ragione Ho impegnato la mano per guidare Vabbè io ho il cambio automatico quindi Non devo Però le mani devono essere Le mani devono essere impegnate sul volante Esatto Perché Sei la polizia che ne sa Loro che ne sanno che io ho il cambio automatico Hai ragione Adesso mi mandano la multa su Youtube Sì Quanti dislike hai messo fino ad oggi? Nessuno Adesso perché è un po' cattiva come opinione no? Io li metto solo a volte O mai Capito? Io sono andato il 14 novembre Sì l'abbiamo già detto Quindi fra poco vi dovete fare gli auguri Fra poco gli auguri Che faccio sei anni Sei bene Ma lo dico per la seconda volta E io invece volevo esprimere questo concetto Che con il telefonino Tu hai la possibilità di guardare Tutto quello che vuoi Come vuoi Quando vuoi Puoi interrompere Puoi riprendere la visione del programma Non sembra una Dai guardiamo Sì dicevo Quando Tu sei su Youtube Ora però vi dobbiamo salutare Sì Quando hai il telefonino in mano Puoi fare quello che vuoi Se un programma non ti piace Lo interrompi Se non Se Vuoi cambiare Argomento Lo cambi Se vuoi far lasciare un commento Dicendo che non ti è piaciuto il video Lo dici Vero? Sì Quali sono i video che guardi più spesso tu? Allora Mi contro te Insieme Insieme Però non sei nell'inquadratura Si viene un po' più a sinistra Insieme Chi sono questi insieme? Allora D'insieme Ah D'insieme E mi contro te Che tu li conosci Abbastanza bene Sì Prendo Dio che arriva Da Casa Tua Bene Ce li sanno Di tutte e due Di più amico Di più amico Di più amico Ciao Dove stai la piccolino Ciao 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 Dillo in inglese Bye 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 bye